A parte le presenze in prima squadra, ho fatto gran parte del settore giovanile, dai giovanissimi fino alla primavera, l'ho fatto a Pescara e ho fatto tutto un percorso. Sono stato tanti anni, otto anni a Pescara e diciamo che lì è stato il mio inizio. Sicuramente Pescara insieme a Vicenza sono quelle città che comunque mi hanno lasciato tanto, perché comunque l'esordio nei professionisti a Pescara, la prima presenza, il primo gol proprio a Verona, perché il mio primo gol lo feci proprio a Verona, un 5-2 a Ellas Pescara. E poi Vicenza, a parte il fatto che comunque ci ho fatto tanti anni da giocatori, ci ho fatto tanti anni dai responsabili del settore giovanile, poi qui mi sono costruito una famiglia con mia moglie dove è nata mia figlia. Per questo sono le città per me molto rappresentative, molto importanti. Le critiche che si riceveva, che ricevevo io, che riceveva De Santis, ma che hanno ricevuto anche altri ragazzi, quello secondo me poi alla fine aiuta anche a crescere. Cioè a far capire subito in fretta quello che è il calcio vero, quello che non è più il calcio da settore giovanile. Per questo anche quello ti ha aiutato a crescere e poi comunque ti ha aiutato a fare le carriere che comunque abbiamo fatto. Il Vicenza si è subito adattato, ma ha un allenatore di esperienza, per cui sotto quel punto di vista sicuramente non ci sono dubbi. Sicuramente è una squadra dove comunque non ha fatto grande rivoluzione, è andata a pescare giocatori utili alla categoria, ma soprattutto giocatori di esperienza. Vedi Maggiorini e devo dire che la classifica per quello che loro in questo momento stanno esprimendo sicuramente gli manca qualche punticino. Però è una squadra compatta, solida, come comunque è la mentalità dell'allenatore. Anche se non è mai bello cambiare gli allenatori, però sicuramente in questo caso che c'è stato a Pescara, la cosa importante per la società e per la squadra è avere una reazione. Penso che questo il Pescara l'abbia dimostrato in una partita, secondo me, molto difficile, in una partita sentita e soprattutto fuori casa. Per questo è stato dato un segnale molto importante.